Uno, due, tre, prova, se, se, se. Prova, se, se. Ciao ragazzi, sono Mattia. Ciao ragazzi, ciao ragazzi. Ciao ragazzi, voi state? Io mi chiamo Mattia Mazzotta, abito a Calimera e ho 13 anni. Bentornati alla mia rubrica. Oggi canterò le canzoni che mi avete richiesto. Io parlo e canto per la radio del Gaslini. All'ospedale Via Diatrico, più famoso in Genova. Finalmente sono ritornato a cantare per voi. Per rendere felici tutti quei bambini che sono ricoverati, che stanno un po' giù di morale. Questa la dedico ad Alessandro del reparto pediatria. La mia storia parte da quando sono nato, perché sono nato con una malattia genetica rara alla gamba. E mi meli adibiale. Dato questa malattia alla gamba, dovevo fare sempre su e giù dalla Liguria. Lui durante le visite aveva paura, giustamente essendo un bambino. Quando stavo ricoverato, tra un'operazione e l'altra, tra una visita e l'altra, cantavo con Don Roberto. Uè! Ciao! Ciao! Don Roberto è colui che ti fa stare sempre bene, pure nei momenti brutti, sempre bene. Raccontami un po' di cose nuove, un po' di novità. L'altro che era The West Kids. Davvero? Sì. No, dai, ti ha realizzato il nostro sogno! Vai, let's go! Per me è una vittoria partecipare a The West Kids. Mandare il messaggio a tutti i ragazzi, a tutti i bambini, a tutte le persone di non arrendersi mai, di continuare a lottare, perché nulla è impossibile alla fine. Allora, state calmi, tanto io sono pronto a cantare, sono pronto a divertirmi, quindi non c'è nessun problema, ragazzi. Arrivato a questo punto, già è una vittoria. È una vittoria, una grande vittoria. Piccolo basso. Devi continuare. Per la storia del canto, grande basso per Mattia, ragazzi. Visto? Allora, Mattia, sei pronto per salire sul palco? Prontissimo. Andiamo? Seguitemi. Vai, portai. Arisa, dai, flex al prossimo concorrente. Il prossimo concorrente? Non so chi sia, eppure sono contenta che venga questa via. Brava! Brava! Vedi, so fare freestyle. È un po' che Napoletà, però, questa via. è un po' che fa. Ha buono sesso. Di martinia. Va bene, va bene. Vieni, Mattia, accomodati. Sei emozionato? Sono molto emozionato. È un'emozione unica stare qui. Senti, amore, però, tu sei un ragazzo coraggiosissimo, no? Perché le difficoltà non ti hanno tolto il sorriso. Quindi, come fai ad aver paura di questo palco? sono emozionato, ma so che spaccherò tutto. Bravo, così è la cosa giusta. Una cosa che mi ha fatto molto sorridere è che tu hai un piano B molto particolare, vero? Sì, il mio piano B è che se non divento cantante faccio il macellaio e poi la sera con gli amici karaoke. Ma come mai proprio il macellaio, scusami, eh? Praticamente, davanti a casa di mia nonna c'è un macellaio che è bravissimo e canta anche. E quindi, era il mio idolo quando ero più piccolo, più piccino. andiamo. Andiamo a cantare, allora. Vieni. È un ragazzo molto solare. Eccolo! Veramente carino. che forti. Albano, è la mia vita. Mi alzo fuori ancora luna piena Esco per toccare la mia terra E' un'altra notte da scordare Niente che ti fa capire Questa vita poi che senso ha In un silenzio fatto per pregare Forte un dolore sale a farmi male Ma un vento che si plaga in un momento E lo scedendo tanto freddo E insieme tanta povertà E va E il mio pensiero se ne va Segue il nuvolo che già sa in quale ancora andare arriverà E va E la umidà che se ne va E quanto amore più ho con lei E la mia vita che passa dove andrò E la mia vita che passa dove andrò Mattia Mattia a 13 anni è di Calimera in provincia di Lecce guarda tutto il pubblico si è alzato in piedi ad applaudire la tua interpretazione di Albano bravo 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 Clementino si è commosco top bravo Mattia è a 13 anni l'ho già detto è un bambino che ha già vinto tantissimo nella sua vita un bambino coraggioso forte è un pezzo molto difficile quello del nostro caro amico Albano forse ne ho addirittura due che sono simili quindi per non fare un doppione non mi sono girato e io ho un progetto mi manca un'ultima voce ma deve essere quella che dico io ma pure io la stessa cosa lui è stato bravissimo già arrivare fino a qui hai vinto poi prima Antonella diceva che hai vinto qualche battaglia importante se ho capito bene sì io sono nata con una malattia genetica rara alla gamba e praticamente la musica mi ha aiutato molto diciamo nella mia vita bravo ma ti posso abbracciare come ti voglio abbracciare vieni qua ti voglio abbracciare è emozionato giustamente perché per lui arrivare qui è comunque un grande traguardo tra l'altro allora devo raccontare di lui due cose primo che tu fai la radio vero come la radio lui fa la radio bravo bravo con Don Roberto che sarebbe un prete dj che sta al capo della radio e praticamente canto per i bambini e i ragazzi e per dimostrare che nella vita dopo aver superato le esperienze difficili diciamo che la vita sarà una gioia bravo ma certo ma certo tu continua a non mollare e io adesso vorrei fare qualche cosa con te che possiamo fare insieme ho soldato innamorato ho soldato innamorato dai bravi vieni innamorato ci avete la tonalità che tenete sempre a fianco a me si Ehi tu, ti è piaciuto questo video? Allora iscriviti al canale di The Voice per vederne tanti altri. Un salutone, ciao a you!